I ragazzi si allenano tutte le settimane, bravi, adesso ve li presento, Michele Sipani, Pietro abbiamo già conosciuto, responsabile del gruppo, Michele Sipani, c'è quale accISHare, a cui si allenano a tutti, ma che naturale, ma che non approfittura, non so che che venne, ma che non approfitto, ma che non approfittura, ma che non approfittura, ma che non approfittura, ma che non approfittura, Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.